e adesso passiamo al ronco della cuica che è un strumento che uno di noi sta suonando si chiama Enrico Rani è quello strumento che dà il titolo al brano ronco, suono della cuica e adesso passiamo al ronco della cuica e adesso passiamo al ronco della cuica e questo è il samba, il samba di Giun Bosco ronco della cuica il prossimo genere dispostiamo al nord-est di Brasile e c'è un genere che si chiama Frevo Frevo e adesso passiamo al nord-est di Brasile e adesso passiamo al nord-est di Brasile e adesso passiamo al nord-est di Brasile Ancora! 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 Ele o laa! Ele o la. Ele o la. Grazie a tutti, questo è Casa di Bamba. Grazie a tutti. 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 E continuiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.